eccoci qua ragazzi è arrivata la formazione ufficiale di roma di namo kiev sono molto deluso dalle scelte di yuric comincio purtroppo ad avere molte perplessità anche su questo allenatore svilare in porta la difesa sarà ma a questo punto io dalle formazioni che mi sembra di capire c'è l'ic di kair moto perché hummels non gioca aspettavamo hummels titolare in questa partita l'ho detto più volte per capire finalmente in quali condizioni si trova questo ragazzo che secondo me entra entrerà nel secondo tempo ma purtroppo il calcio mercato è stato condotto in un modo folle per essere qui praticamente a novembre a sperare che hummels finalmente possa giocare la sua prima partita un giocatore del genere è una cosa avvilente proprio quindi io da quello che ho capito della formazione perché ho i nomi dei giocatori ma non so come li farà giocare vi posso dire che giocheranno scelic e zaleschi quindi sicuramente c'è ricca a destra dalle schia a sinistra giocheranno un di kair moto e angelino davanti alla difesa giocheranno le fe e con e e cioè io penso che sia un 3 4 2 1 perché perché poi ci sono baldanzi e pisilli dietro a artem dobic quindi io non ho capito bene qual è la di cioè se i tre in difesa sono di carmoso e angelino oppure sono celic di carmoso non lo capisco bene ma è una formazione che non mi soddisfa non mi soddisfa come avrete notato finalmente avremo cristante e pellegrini in panchina chissà che non porti tutto questo qualcosa di buono in zona offensiva ma la partita la vinciamo ragazzi la di moglieva una squadra che alla nostra portata una squadra che vive un dramma storico sociale la guerra è evidente che se tu non riesci a fare risultato con una squadra in questa condizione psicologica che comunque non è una grande squadra è chiaro che la panchina di giurice salta domani pomeriggio ci sarà qualcun altro ad allenare la roma a dirigere l'allenamento della roma la formazione non mi piace perché ritengo che far giocare celic e zaleschi in questo momento abbia un significato psicologico di non voler perdere questi due giocatori di non volerli mettere in croce ma in questo in questo modo si antepone diciamo la dignità del lavoratore all'interesse collettivo dell'azienda e delle della squadra perché questi due giocatori contro l'inter hanno dimostrato anche di avere bisogno di riposo forse di dover ricaricare un po le pile quindi io sono molto perplesso sulla scelta di puntare ancora una volta su celic e zaleschi